Musica Questi barriganti fingono di resistere tanto per salvare le apparenze ma è questione di poco, questa sera entreremo a Roma Giulia Puoi entrare papà Giulia, vieni via dalla finestra, è pericoloso Cos'hai paura? Non per me, per Mario Sti vetri mi danno ai nervi Papà, tutta la città è sotto sopra Credi proprio che sia possibile celebrare un matrimonio con quello che sta succedendo? Ti supplico papà, rimandiamo le nozze Ti prego Giulia di non toccare questo argomento, le nozze avverranno in ogni modo